Comeriggio bresciano per il leader della Lega Matteo Salvini, che in vista delle elezioni amministrative ha ribadito il no alla ripartizione dei migranti. Secondo il Tribunale di Brescia, l'assassinio di Stefania Crotti fu un piano diabolico studiato nei minimi dettagli. La CGL di Brescia ha ribadito la sua contrarietà alla realizzazione del COVID Hospital in scala 4 per i sindacati, meglio fuori dal civile. Altro finale al Caldioparma per la palacanestro Brescia in Supercoppa, finisce 89-88 al pala A2A. Sanificare e sterilizzare tutti i vostri ambienti da oggi è diventato un gioco da ragazzi, con Apollo è la sola forza del vapore. Una buona sera a tutti voi dalla redazione di E-Live e benvenuti a questa edizione serale del nostro telegiornale. Telegiornale che apriamo con la visita in terra bresciana del leader della Lega Matteo Salvini, che oggi ha visitato, ha fatto visita a Rovato e a Roncadelle per due comizi. Principalmente il tema è stato quello delle elezioni, ma sono stati tanti altri temi trattati da Salvini, fra cui anche il processo che lo vedrà imputato ad ottobre a Catania. Sentriamo uno stralcio delle sue parole. Sono scaramantico, ma l'aria che respiro in giro per tutta Italia è un'aria di voglia di cambiamento. Ci sono solo due regioni uscenti, Lega, Centrodestra, Liguria e Veneto, e lì si stravince. Le altre cinque sono tutti uscenti di sinistra, Val d'Aosta, Toscana, Marche, Puglia e Campania. Il mio obiettivo è vincere ovunque e si può fare. Non lo dico per dire, ma penso a due regioni che votano da 50 anni a sinistra, come le Marche la Toscana, c'è voglia di serietà, di cambiamento, di buona sanità, di infrastrutture, di sicurezza, di regioni con barriere architettoniche a zero. Quindi non vedo l'ora che arrivi questo 20-21 settembre perché andrò ancora più tranquillo e orgoglioso a processo a Catania dopo il voto degli italiani. Il vostro sindaco è fondamentale, ma non solo a Rovato, in tutti i comuni del Bresciano, perché sapete cosa succede a settembre? Che dal ministero, una volta passate le elezioni, inizieranno a telefonare ai sindaci, visto che ci sono migliaia di immigrati bloccati in Sicilia, e telefoneranno anche a Rovato dicendo, sindaco, lei se ne becca 20 o 30? Se c'è un sindaco della Lega con l'educazione si risponde, no, a Rovato non ne voglio neanche uno. No, a Rovato abbiamo già dato abbastanza. Deve avere paura chi va a processo perché ha commesso dei reati. Io ho fatto quello che avevo promesso agli italiani, ho combattuto gli scafisti, ho arginato l'invasione, l'immigrazione clandestina, cosa che in questo momento invece il governo non sta facendo, quindi non penso di meritare medaglie perché era il mio lavoro, ma neanche un processo o 15 anni di carcere, quindi vado in quel tribunale rappresentando milioni di italiani. Voltiamo solo momentaneamente pagina perché poi ritroveremo anche il leader della Lega Salvini anche nella pagina sportiva del nostro telegiornale. Ora parliamo di cronaca giudiziaria, infatti ve ne avevamo reso conto alcune settimane fa la sentenza di condanna per l'omicidio di Stefania Crotti, 30 anni, all'Alessandri che l'aveva brutalmente uccisa, prendendola martellate e poi bruciando i suoi resti nelle campagne di Erbusco. Ebbene, quest'oggi il Tribunale di Brescia ha parlato delle motivazioni, ha rese pubbliche queste motivazioni parlando di un vero e proprio piano diabolico. Il Tribunale di Brescia ha depositato le motivazioni della sentenza che ha condannato dopo la scelta del rito abbreviato Chiara Alessandri ha 30 anni di reclusione per l'omicidio di Stefania Crotti, 42enne di Gorlago, uccisa il 17 gennaio 2019 e trovata carbonizzata nelle campagne di Erbusco. Per il Tribunale di Brescia si tratta di un piano diabolico, messo in atto dalla 45enne madre di due figli che aveva cercato di rilacciare i rapporti con l'ex amante, marito della Crotti, col quale aveva instaurato una relazione l'estate precedente. Il piano diabolico sarebbe stato organizzato nei minimi dettagli. Con l'aiuto complice dell'amico, del tutto ignaro della strategia messa in atto, Chiara Alessandri fece accompagnare la vittima nel garage della sua abitazione, dove venne presa a martellate e successivamente trasportata ancora semicosciente nelle campagne di Erbusco, dove il corpo venne dato alle fiamme. Ora apriamo la pagina dedicata al Covid-19 con SCAC Scala 4, il reparto del Covid Hospital che dovrebbe essere fatto nell'ospedale civile. Scade domani il bando di manifestazioni di interesse per ristrutturare questo padiglione, ma le polemiche non si placano. Infatti la CGL di Brescia ha ribadito la sua contrarietà a questo progetto, proponendo come idea alternativa di sfruttare degli spazi adiacenti all'ospedale, ma non interni alla struttura, o addirittura anche altre strutture già in possesso della SST spedale civile al momento inutilizzate. La CGL di Brescia è contraria alla creazione di un'unità operativa di 170 posti di Covid-19 nella Scala 4, in pieno ospedale civile. È una posizione che abbiamo espresso fin dalla prima formulazione della proposta nello scorso maggio e che ribadiamo anche ora a fronte di un bando che presenta molti punti contraddittori e preoccupanti. Così la CGL di Brescia ha ribadito la sua contrarietà al progetto del Covid Hospital che dovrebbe nascere nel padiglione del civile di Brescia, posizione già avanzata mesi fa quando l'idea fu presentata. I sindacati esprimono perplessità, ma non vogliono parlare di contrarietà a priori. Da un lato, infatti, ritengono necessarie le misure cautelative nel caso di un nuovo aumento dei contagi, però non in questo modo. Solleviamo timori oggettivi su aspetti inderogabili per i lavoratori e per i cittadini e su cui oggi non abbiamo ancora ricevuto riscontro, hanno fatto sapere. Prospettiamo l'adozione di un ospedale a moduli nei pressi degli spedali civili, ma separato da esso, o l'utilizzo di strutture già di proprietà dell'azienda, come ad esempio il ronchettino, o l'ampiamento e la riorganizzazione della palazzina infettivi, o ancora l'ampiamento di reparti specialistici ordinari capaci di convertirsi rapidamente per accogliere pazienti Covid positivi. Allora andiamo a dare uno sguardo a questi dati riferiti all'emergenza sanitaria nella nostra regione. Lo facciamo ovviamente sul nostro sito internet www.elivebrescia.tv, ecco qua dove, come ogni sera, pubblichiamo appunto i dati comunicati dalla regione. Come abbiamo titolato questa sera, sono 237 nuovi casi positivi registrati in Lombardia e 28 nella nostra provincia, 28 al Brescia città e in provincia di Brescia. I tamponi effettuati sono un numero abbastanza alto, come di consueto nelle ultime settimane dopo l'avvio dei tamponamenti e dei test negli aeroporti lombardi. Sono 17.082 che hanno portato alla luce a 237 positività, di cui 37 sono considerate deboli, e 10 a seguito di test sierologico. Nei dati provinciali risalta, come sempre negli ultimi giorni, Milano con un più 89, seguito appunto da Brescia con 28, di seguito Bergamo con 25 e Monzebrianza con 24. Solo una, la provincia senza nuovi contagi, come possiamo vedere appunto da questa infografica, di regione Lombardia e De Sondrio con zero nuovi casi. Diamo un'occhiata anche al dato importante dei ricoveri, che purtroppo sono in lento, graduale, ma purtroppo costante aumento. Sono 22 attualmente le persone ricoverate in terapia intensiva nella nostra regione, più uno rispetto alla giornata di ieri, mentre sono 220 quelle ricoverate non in terapia intensiva, un dato che è maggiore di 8 rispetto al dato della giornata di ieri. I decessi che all'aumento in Lombardia sono 16.869 dall'inizio di questa pandemia diversi ormai mesi fa, più due, quindi due decessi registrati nelle ultime 24 ore. ATS Brescia ha poi fatto sapere che nessuno è relativo alla nostra provincia. Continuiamo a parlare di Covid-19, non dal punto di vista, diciamo così, fisico, delle ripercussioni fisiche, ma per quanto riguarda la psiche, le ripercussioni psicologiche che non sono assolutamente da trascurare. Nei mesi più duri dell'emergenza, pensate, sono stati oltre 600 gli interventi di sostegno fatti dalla Covid Helpline, ovvero un servizio telefonico di supporto psicologico, ma anche a livello farmaceutico per tutti coloro che hanno riscontrato delle difficoltà a seguito dell'emergenza sanitaria a livello psicologico, quindi delle ripercussioni anche importanti. Pensate che metà di questi interventi sono stati fatti a membri del personale sanitario, quindi proprio coloro che lottavano in prima fila negli ospedali contro questo virus. Oltre alle ripercussioni a livello fisico, sono tanti gli effetti a livello celebrale che un'emergenza sanitaria può causare e che possono essere duraturi nel tempo, con sintomi di forte stress, ansia, depressione, alterazione dell'umore e abuso di sostanze stupefacenti. Per questi motivi la Fondazione Ospedali Civili di Brescia ha deciso di sostenere Helpline Covid-19, un servizio di telemedicina in psichiatria che ha già erogato 661 prestazioni durante l'emergenza sanitaria, di cui oltre la metà ha operatori sanitari impegnati in prima linea, ma anche pazienti e familiari. Helpline è un supporto diretto dunque non solo ai medici e agli infermieri, ma a tutta la popolazione. Dopo un primo contatto telefonico e una consulenza si possono effettuare colloqui psicologici e o trattamenti farmacologici, indirizzando la persona, lo specialista psichiatra o al medico di medicina generale. Lo sportello Helpline è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Basta una telefonata al 333 617 0344. Ora voltiamo nuovamente pagina e passiamo alla cronaca con una delle piaghe ancora purtroppo diffuse nella nostra provincia, ma anche in città, ovvero quella dell'abbandono dei rifiuti illegali, il cosiddetto fuoricassonetto, che viene ancora praticato, nonostante, attenzione, stiano aumentando esponenzialmente le fototrappole poste dalle varie polizie locali dei vari comuni di Brescia e provincia. L'ultimo caso è stato scoperto a Prevalle. Un altro gesto di inciviltà a danno dell'ambiente è avvenuto nel comune di Prevalle. La polizia locale, guidata dal comandante Massimo Zambarda, ha infatti sanzionato un cittadino per aver abbandonato rifiuti nelle aree del territorio, dopo una segnalazione di un concittadino sui canali social. Nel mese di giugno sono state poi acquisite e installate nel comune di Prevalle due fototrappole che vengono di volta in volta posizionate in punti detti caldi del territorio e aiutano la polizia ad individuare i responsabili di queste azioni incivili. Purtroppo è solo l'ultimo caso avvenuto nella nostra provincia e nella nostra città. Sono infatti decine le segnalazioni fatte da cittadini e non solo in merito all'abbandono fuoricassonetto di rifiuti. A Brescia, solo nel 2019, i cittadini multati per questo reato sono stati oltre 2.000. Ora torniamo in città dove parliamo di polizia di Stato che si occupa sì di interventi per contrastare reati, ma non solo. Infatti quella di cui stiamo per parlarvi è davvero una bella storia. Questa mattina in stazione degli agenti della polizia di Stato, dopo una segnalazione di un tassista, hanno messo in salvo un gatto che pensate si era incastrato e non riusciva più a uscire dalla centrale elettrica della stazione. Una vicenda che si conclude agli etofine e dalla quale emerge un grande senso di solidarietà. Le donne e gli uomini della questura sono impegnati infatti a 360 gradi sul territorio, sia per il contrasto dei reati sia per i salvataggi, che non sempre riguardano le persone. Gli agenti della polizia di Stato infatti, durante il regolare servizio di controllo nella stazione ferroviaria di Brescia, hanno salvato nella mattinata di mercoledì un gattino rimasto intrappolato nel vano della centrale elettrica, dopo una segnalazione ricevuta da un tassista. Il piccolo animale risultava incastrato in una posizione difficile da raggiungere, ma gli agenti si sono adoperati per riuscire ad estrarlo in colume dal vano della centrale, contattando successivamente l'associazione ATAR di Brescia per il suo affidamento. Parliamo ora di norme anti-covid e della nuova ordinanza emanata dal comune di Brescia in merito alle norme per svolgere in sicurezza i mercati cittadini e non solo. In realtà non cambia molto, le norme restano sempre quelle. Cambia, diciamo, la cosa più importante che cambia è che si riducono leggermente gli spazi che si devono mantenere fra i vari banchi. È stata rinnovata l'ordinanza che regola l'apertura dei mercati rionali, del mercato di col diretti e del mercato contadino, che entrerà in vigore a partire dal prossimo 8 settembre. Fra le novità principali vi è la riduzione del distanziamento fra i banchi, che dovrà essere di un metro e mezzo lateralmente e di tre metri e mezzo frontalmente. In ogni mercato sarà obbligatoria la presenza di addetti al presidio, così da garantire il corretto distanziamento sociale. I negozianti avranno l'obbligo di indossare la mascherina e di dotarsi di soluzioni idroalcoliche, disponibili ovviamente anche per i clienti. Il cliente, prima di manipolare un prodotto, è tenuto quindi a disinfettarsi le mani o ad indossare dei guanti monouso forniti dal negoziante. Gli operatori fra i due banchi deacenti sono inoltre tenuti ad evitare l'accesso dei clienti fra un banco e l'altro. Le operazioni di allestimento dei banchi non potranno iniziare prima delle ore 7, mentre l'area del mercato dovrà essere lasciata libera entro le 14. Resta vietata la vendita dei beni usati. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione e-live play del nostro sito internet. Puoi riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast. Puoi riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast. Una buona sera anche a voi amici sportivi di Alive. Come detto sono tanti i temi da trattare questa sera, ma andiamo con ordine e partiamo con il basket, con lo sport giocato. Ieri infatti è scesa in campo la pallacanestro Brescia per la seconda sfida di Supercoppa. La prima in casa dopo il lungo lockdown contro Varese. Attenzione, se siete tifosi della Germani, attenzione agli attacchi di cuore, perché per due partite di fila la Germani vince, sì, ma vince di un punto sulla sirena. Vince di nuovo la Germani, 89-88 il finale, ancora una volta vittoria in volata con una tripla. Questa volta a firma di Christian Barnes a regalare il sorriso a coach Vincenzo Esposito. Partita difficile come l'era stata già adesio contro Cantù. Brescia che deve rimontare prima da meno 14, poi da meno 13 nel corso del terzo quarto di gioco. Salle alla ribalta Brian Sacchetti che gira la partita e nell'ultimo quarto un po' Crawford da una parte, un po' Cerri, ma soprattutto la tripla di Christian Barnes regalano un grande sorriso a Brescia. Dall'altra parte un suntuosissimo Luis Scola che gioca veramente come se fosse un ragazzino nonostante abbia 40 anni di età. Adesso Brescia da seconda in classifica va a sfidare venerdì sera al Forum di Assago Milano. E poi chissà, chi lo sa, staremo a vedere. E grazie ad Alberto Banzola per questo commento fatto direttamente al Pala 2A subito dopo la partita. Quindi ora appuntamento per questo venerdì contro le scarpette rosse, contro la corazzata Olimpia che ha schiacciato tutti gli avversari fino ad ora. Ma se ci ha insegnato qualcosa queste due partite la squadra davvero di coach Vincenzo Esposito non ha nulla da temere e ha coraggio e forza da vendere nonostante i momenti magari di difficoltà. Ora come promesso il commento che quest'oggi Salvini ha fatto a Rovato innanzitutto quando è arrivato sul palco del Comizio è arrivato sfoggiando una maglia di Tonali, una maglia del Brescia. Quindi ormai vintage perché come sapete Tonali è passato al Milan squadra per cui tifa anche Matteo Salvini e ha espresso così la sua felicità per questo acquisto dei rossoneri. Ma innanzitutto il Brescia è l'unica squadra con cui la tifoseria del Milan è gemellata quindi per il Brescia i colori bresciani ho sempre avuto particolare affetto. Poi Tonali è uno dei migliori secondo me su piazza. Quando lo vedevo giocare speravo chissà mai se un giorno potrà vestire la maglia del Milan. Il fatto che arrivi al Milan per me è una bellissima cosa, è un ragazzo in gamba, è giovane, è un centrocampista con i piedi buoni alla Pirlo. Quindi dai che forse dopo tanti anni di sofferenze torniamo a sorridere anche in campo. Continuiamo a parlare di calcio, di Brescia calcio però dei futuri Tonali. Infatti andiamo alla SD Brescia Academy e sentiamo le parole del responsabile Paolo Migliorati. A noi abbiamo cominciato con l'attività di base anche con il 2008 e domani cominciamo con il 2009. In 2008 li ho visti fare una partita all'allenamento sabato e vedevo questa voglia perché nella partita all'allenamento quando facevano gol e ne hanno fatti tanti come tutte le partite all'allenamento esultavano come se avessero fatto un gol in partita. La voglia di giocare è tanta. Come dice Cristian è molto importante l'attività di base perché se riusciamo a tirarli su da lì, riusciamo a trasmettere questa brescianità, io penso che l'attaccamento alla maglia sia un fattore che può aiutare in modo decisivo il ragazzo, il bambino poi il ragazzo, a diventare giocatore. Ora per il calcio ci spostiamo sul guarda e parliamo di Feralpi Salò. Si è concluso il ritiro, ve ne abbiamo reso conto nei giorni scorsi. Sono subito ripresi gli allenamenti a Salò perché sabato c'è un amichevole di lusso contro un club di Serie A. Terminato il ritiro, la Feralpi Salò è tornata in campo per gli allenamenti in vista della nuova stagione. Erano attesi per questi giorni i calendari ufficiali, ma la Lega Pro ha deciso di posticipare ancora i sorteggi a causa di un contenzioso giudiziario con al centro l'incontro Farapicerno e Bitonto. Non c'è ancora la nuova data, ma in attesa di scoprire il calendario i leoni del Garda aumentano con nuovi inserimenti in rosa. Hanno infatti firmato ufficialmente Caio Decenco, punta brasiliana di esperienza classe 1989, capace di mettere a segno 9 gol in 24 presenze la scorsa stagione, mentre il presito dal Genoa è arrivato anche Nicolas Rizzo. Nei giorni scorsi sono arrivati in presito rispettivamente da Roma, Atalanta ed Inter Ludovico Dorazio, Giorgio Brogni e Lorenzo Gavioli. Questo sabato ci sarà poi l'amichevole di lusso a Pinzolo contro il Bologna, club di Serie A guidato da Sinisa Mijailovic. Partita tecnicamente proibitiva, ma sicuramente un banco di prova e un'esperienza di crescita non indifferente per i tanti giovani della Feralpi. E allora in bocca al lupo i giovani della Feralpi che dovranno vedersela sicuramente con una sfida importante contro il Bologna, un club ovviamente di Serie A allenato anche da un grande allenatore come Sinisa Mijailovic. E con questa notizia si conclude qui questa edizione del telegiornale. Io vi ricordo che tutte le notizie si aggiornano in continuazione sul nostro sito internet www.elivebrescia.tv dove trovate anche la nostra diretta come sempre nel nostro canale digitale terrestre 16 e 197 in questo piccolo box live streaming espandibile a tutta pagina e visibile anche in versione mobile. Se invece volete rimanere informati in tempo reale, il modo migliore è iscriversi ai nostri canali Telegram. È Live Brescia News ed è Live Brescia Sport e tutte le notizie arriveranno direttamente sul vostro telefono cellulare senza alcuna fatica, così come anche i risultati sportivi come sta avvenendo in questi ultimi giorni per quanto riguarda la pallacanestro Brescia. Io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che l'informazione torna domani alle 12.30. Grazie ancora per averci seguito e una buona serata a tutti voi e a domani. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione E-Live Play del nostro sito internet o riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast.